Hola compagneros, io soy lo Stiepil di Universo Parallelo Volevo dirvi che oggi doppio appuntamento sul canale Ora è disciotto in punto, non mancate col proseguio di questo episodio speciale In compagnia di tutti e quattro i miei Lasciate però 50.000 mi piace o vi spiego le gambiene, mi raccomando Buonita visionita State pronti per questo episodio speciale? Sì, sì Bene, ragazzi, questo è mi bentornati nel diciottesimo episodio della serie di Mates in Minecraft La serie Vanilla dei Mates Siamo in compagnia di Giuseppino, Sascha, Salvatorino Ciao a tutti Come va? Voi per adesso siete felici e contenti, ma non sapete che cosa vi aspetta ancora quest'oggi Chi devo ammazzare? No, non è una cosa brutta, però nell'ultimo episodio Diciamo, ho promesso che in questo appuntamento speciale Saresti stati un po' i miei aiutanti, i miei schiavetti Ecco, bene Quindi, venite con me Ah, veri slaves, non veri amici Anzi, aspetta, aspetta Giuseppe, sparami una freccia appena salto 3, 2, 1, vai No, che mirai Eh zio, ma se salta in obbligo Te lo faccio io 3, 2, 1, vai T'ho preso io Io l'ho preso No, no, io l'ho mancato Vabbè, attraversate il fiume che il ponte ancora non c'è più Perché l'ho dovuto demolire E ancora non c'è più Mi ricordo Perché c'era Vai, ti sto colpendo Esatto Praticamente vi ho preparato 3 chest con 3 armature All'interno ci sono degli oggetti che utilizzerete in questa missione di oggi Allora, spogliatevi No, dobbiamo minare Spogliatevi tutti quanti Cosa ci cucula le armature? Va bello Ok, io vengo con voi Quindi che devo fare? Dovete spogliarvi tutti quanti Levarvi le vostre armature E mettervi queste qui in pelle colorata Così vi distingo Io non posso Non posso levare l'elmo Perché c'ha E vabbè Vabbè Lascialo con l'elmo Lo lasci lì Ma anche le armi Le armi le puoi tenere Però leva tutto il resto Solo l'armatura quindi E quindi Levate anche i vostri picconi e tutto La spada la puoi tenere Almeno ti puoi difendere No raga Io ho paura Io tolgo anche la pala Non so che se muore Vai Non so che se muoio Se muoio sul contenuto Così posso levarmi l'elmetto Eh, non ci starebbe nemmeno male Vuoi che ti uccida? No, no No, no, grazie Mettetevi tutti ogni cosa Ah, eravate bardati bene però Ma che robina Ah, doppio piccone Sascio addirittura Ma se giro così come i buzzurri Senza scarpe Mettete il capelleno Ce l'hai le scarpe? Eccomi qua Ti dirò che quasi lascio anche l'arco Perché ho un po' paura Portarmelo dietro così No vabbè Ma la mia miniere è abbastanza tranquilla ragazzi Sì Vabbè raga ma quale è la miniere Ma io lo lascio comunque Hai preso il cibo? Stefano ma te sei in diamante Lei va a sta curazza di merda Anche le torce No io no Ah bello Io sono il direttore dei lavori Ma cosa vuol dire i lavori Fantozzi Sascio è veloce Hai un secondo Sto togliendo tutto Non si sa mai Tanto ora arriva un clipper E fa esplodere tutto Come minimo Ma perché meglio quei mattoni? Vabbè Non si sa mai Andiamo Vi spiego È da tantissimo Che non faccio un episodio Di scavo nella serie E quindi sono rimasto Un botto indietro Con i materiali Ah ok Bene Quindi aspetta Dobbiamo scavare Datti i materiali Io non scavo niente Tutto quello che scaverete In questo episodio Dovrete lasciare I diamanti A portata di vista Perché poi verrò A prenderli io Col piccone con fortuna Ma scusa Mi immagino io Il piccone con fortuna Te li prendevo io Eh no Perché fidarsi è bene Non fidarsi è meglio Anche se siamo fratelli Insomma Ma ci stai Ma ci stai sfruttando Venite giù Ma tu che cacchio fai Tutto questo È bello No Io dirigo i lavori Vengo con voi ovviamente Dirigo i lavori Certo che scavo Dobbiamo scavare la pietra E lasciarti i diamanti E gli altri minerali No Scavo anche io Noi creiamo un percorso Da questo lato Che arriva fino In fondo No Oh calmi Bisogna fare le cose con ordine Iniziamo a creare dei tunnel Aspettate che devo creare un perimetro Qualcuno si sta inculando la redstone Possiate scavare Aspetta Inizio a crearlo qua Vabbè quindi vuole Ci sono i diamanti Smeraldi Cosa stai facendo Non si scava così In miniera No I materiali Qui ci viene Sasha Vieni qua Quale? Il primo o il secondo Qui è fermati Non scavare Qui mettiamo Surry Questa è una gara addirittura No non è una gara Qui Surry vieni qua Dai Poi mettiamo Giuseppino Per adesso Qua Vieni qua Al primo stavo io Eh no Al primo ci vado io Perché arrivo in fondo Vi faccio il punto di limitazione In cui poi vi fermerete E poi dobbiamo scavare I uguali Verso l'altro lato Vabbè sì Dobbiamo scavare dei tunnel Era che ci vuole tanto Aspetta no Con calma Perché piano piano Dovete scavare E siete tipo dei Come si chiamava Surry Quello lì Che c'è nella moda The Tartle The Tartle Quello lì che scava Automaticamente Sì le tartarughe E siete le mie Tre tartarughe ninja Ho messo Splinter Vai cazzare Dovete portarmi a casa Un sacco di roba Perché nel prossimo episodio Ho in programma Di realizzare la fornace automatica E quindi di iniziare A farla produrre da subito Distruggete tutto Tranne i diamanti Ti dirò E se me lo becco davanti Per sbaglio Quindi iniziate pure a scavare Sarà una pozza di lava E a quel punto Allora che io torno Surry Mi sembra di essere tornati All'età della pietra Veramente Dovete andare solo dritto Mi spiace Io scavo dritto Se becco diamanti Ma che cazzo che episodio è Scusami Ma non mi preoccupate Ma che ci vediamo Uno sta a cazzo per l'altro Io mo vengo a aiutarvi Tranquilli Come fai E tu ne sono uno per una La cobblestone Posso almeno tenerla Sono il direttore Dei lavori del cantiere Vabbè ma se tanto Io trovo dei diamanti Perché è buio Li ho trovati Tu non ti preoccupare Lo scopro subito No ci ammazza Il bastardo Ci ha fatto spogliato No non mi ammazzo Che cazzo sono Hitler Surry sta andando bene Il più lento per adesso È il vecchio Ma perché Io faccio i tunnel Fatti come si deve Non scava Che c'è da fare in un tunnel Devi scavare dritto Ma cosa devo mettere No ma perché lui Perché lui lo fa alto 3 Perché sennò dalle zuccate Alto 3 No è tempo sprecato No in realtà è comodo Quando siete arrivati in fondo Me lo dite E ricominciamo con un altro giro E ci sono Sei già arrivato Bene In fondo dove C'ho la lava zio qui Vieni qua Dovete sempre stare A livello 11 È fondamentale Ah ok Dove cazzo sta Siete al 12 Siete qui Siamo qui Ragazzi Siete qua Appunto Ti indico Solo Cobb Manca un pezzo di ferro Perfetto Vai Sasha Inizia pure il tuo tunnel Nuovo Di dove Che è qua In questo punto esatto Ma avrei detto Dobbiamo andare avanti e indietro Vieni vieni qua Sasha Scava E io Qui c'è il tuo Surry Quindi c'è Chi ha trovato più materiali Ha un premio Gli regali un diamante Un diamante Ma siamo stupendo No no Intanto per iniziare Il piccone che avete trovato All'inizio nella cesta È tutto vostro Grazie Grazie Ma a fine episodio Sarà un altro Meglio di niente Non lo so Un giorno avrete qualcuno a cui darlo Non so Un aiutante Un affidato Oh bello È mio sto carbone Oh La resto non è mia Ah bello Perché la cosa che non sapete I diamanti potrebbero essere A me tratta Un tunnel E l'altro Lì dovete giocarveli però Giocarveli cosa Vuol dire Ma ti ho detto io che mi sembri al premio Oh bello Appunto Appunto A quel punto dovete giocarveli Comunque io ho trovato il ferro E me lo tengo No no capito Quindi non te li dobbiamo raccogliere o si No no Non li dovete raccogliere assolutamente Però Io lo so di chi sono i tunnel Cioè se Sasha lo trova So che è di Sasha Ah ok Perché sei davanti a me Bastardo Io ho finito Sto portando avanti Hai finito già Anche io ho finito Io vi ho tolto i piccoli con efficienza Per metterci di più Abbiamo finito Andiamo avanti Già fatto il conto No vedi no Vedi l'amore Devo dirigere State sbagliando No è giusto Non cagare ma Avete saltato un buco Ma io sono fermo Sono fermo Vieni Vieni Sasha è il tuo Questo qua 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 è tuo Mi arriva l'asl Controllare che siate in regola No ma cosa L'asl Al massimo se devi essere tu in regola Con i tuoi dipendenti Appunto mi viene a controllare Se sono il regolo E io dovrei esserlo In teoria Ho finito Ma è impossibile che l'avete trovato un cazzo Io ho trovato 20 blocchi Non è colpa mia Essere nel tuo deserto Fa tutto schifo Io trovo un botto di robo qua O se siete sfidi Vieni Surry vieni qua No io sono già iniziato No ragazzi sto impazzendo Dove cazzo stai andando Eh tu hai fatto un casino Raga sta diventando un groviera Staminiera Fermi Che cazzo facciamo Un groviera Allora no no Surry fermati Non devi andare in là Perché no Allora Fermo Dove cazzo è casa È di qua Perché è un sistema di merda Quello che hai fatto Stefano è qua È qua casa tua È qua Rispetta il tuo direttore dei lavori Porca troia Sono io la talpa No con te coglione Mi sono perso Dove è casa mia Che sistema di merda Di tune che ha fatto Ci penso io Visto che di là Non pare essere molto produttivo Seguite il capo master Allora sai cosa sarebbe bello Visto che siamo in quattro Fare uno scavo Non scavo Fermo A tutto mondo Cioè Giuseppe immobile Tutta una stanza enorme Alta 2 Però tutta scavata Che vede benissimo Può farmi una voragine sotto terra Che non sfrutterò Bravo È la voragine Perché non la sfrutterai? Eh che ci faccio Può fare le prossime cose Tu puoi fare un magazzino segreto Un magazzino segreto Che facciamo in quattro Che conoscetele tutti Ma fai così Scusami Dacci la libertà di scavare E quando uno trova i diamati Ti chiamano E tu vieni col piccone fortuna A prenderli No io non mi fido Perché poi fate dei tunnel brutti Che non sono più Ma ti sti cavoli Ma non so se hai visto La mia galleria Tutta perfetta Tu dammi la libertà di scavare Non dove dici te Giuseppe ha fatto il traforo del monte bianco Ma va a cagare Dove dice lui di scavare Questo è il livello 11 Il livello più prolifico di tutti quanti Ma chi tal cazzo te l'ha detto? Lo so e basta Funziona così Ma c'era molti più di te vecchio anziano Allora che cazzo stiamo schiavando i diamanti? Non stiamo schiavando i diamanti In generale stiamo prendendo tutti i materiali Io ho bisogno della cobblestone I diamanti servono poi per decidere Chi sarà stato il migliore Ma io ho già messo tutto nell'ender chest Quale è l'ender chest? La mia Non c'è neanche qua L'ender chest portabile Ho ciazzato Quindi vedi un piccolano sweet touch Che ti ho fatto lasciare Bugiardo Ne avevo due Siete venuti nel lato di qua Sì che l'ho fatto alla fine Però avete sbagliato lato E io non so da dove sono venuto Te l'ho detto di fermarmi Quando Giuseppe ha detto Facciamo un cazzo di cane Ma non è vero Mi hai fatto un film E dai dai Io lo so che troverò Un diamante speciale Impossibile che non avete ancora trovato neanche un diamante Ancora niente zio Zero Non è che stai cercando di fare i furbi con me Non c'ho niente Io ho trovato 18 di ferro punto Un po' strana questa situazione in cui non avete trovato niente Capito? Se scavi qua fa schifo Suri sta scavando alla parte giusta perlomeno Poi altri non lo so Parli pace su ferro per terra ste Lo deve prendere voi Eh vabbè Ma che cazzo vuoi? C'è pure la lava sotto Mi toglie almeno la ghiaia, ti prego Devo lavorare io per voi Capito? Non ci hai lasciato nient'altro C'è un piccone Vai vai Il vecchio dov'è? Ah boh Pensione? Eh gli piacerebbe Che fallimento totale sto video Eh zio dacci tempo Se mi dai la libertà di scavare come mi pare te li trovo Ma così si scava bello Ma non è vero Comunque è lunghissimo il tunnel Siete solamente all'inizio ragazzi Trovati trovati diamanti Grandi Ma perché l'hai detto stupido fratello? Ma si tenda a casa ne ho 16.000 Ma continuiamo dividerci lì noi Sono uno due tre qua su cinque cinque ore Bene il surri il bravo fratello Riceverà un bravo fratello cosa vuol dire Aspetta e spera che ne trovi più le ore Perché sei nel tunnel di sascia? Sono il mio deficiente Hai rubato dal mio tunnel? No sei tu che non l'hai visti Non l'hai visti è vero? No C'era il mio tunnel In realtà no Era così e non l'hai visto Cosa vuol dire? Recuperiamo Recuperiamo Perché era qua Indovina quanti sono Surri non ci crederei mai Sette precisi Allora poi sono a me Passa Intanto vai Non hai detto che vincere tu È come i venditori ambulanti C'è la FII La mia 20% La FII è alla fine No la FII è per vendita a casa mia E Sasha è arrivato in fondo Dai Sasha puoi ripartire Riparto qua che ho appena trovato i diamanti vero Io non li faccio più i video sul canale di Stefano Se sono idee di merda così No 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 dammi un'altra lane Non mi piace Come non ti piace? Sgobba Dammi un'altra lane Perché non ti piace? Guarda potrebbe essere ovunque di avanti No perché li ha appena trovati Surri qua No Surri li ha trovati in quello a fianco Ora li vado incontro Surri dovrebbe essere qua Ma questo piccone fa cagare Ora inizio a prepararvi le chest Così potete svuotare l'inventare Io sono pieno Eh lo so Alla mia cobblestone Vediamo subito un crafting table Ma qui è già tutto scavato Dove devo andare? La maniera è grande La vita è lunga Immagina quanto bello sarebbe se fosse tutto Provati di avanti di avanti Nino nino Non mi piace questa lane Ragazzi mi sa che sono tipo lontanissimo 4 5 6 Uuuu Mi che sono 8 No dai 8 8 8 No Sascha ne ha trovati 8 Vediamola No 7 Per la legge dei numeri 8 moltiplicato per 3 Dovrebbe dare sicuramente più di quello 24 24 24 Vediamo dai No sarà 21 sarà Vi raccolgo tutti quanti Quanti ne ha trovati Surri? Surri ne ha trovati 7 Sascha ne ha trovati 14 Uuuu Surri Vabbè ma lì dipende la fortuna Qui Sascha per adesso è il netto vantaggio Vabbè allora scavo con lui Nooo Un attimo fa ha detto Bravo fratello Ci voglio tutto E ti raccontento proprio quando ti faccio nei complimenti adesso E ma io sono un po' un mercenario dei direttori Cioè chi porta i soldi è quello che viene pagato di più Ah Non è bello Io finora Stefano ho trovato questo Hai trovato un coal Com'è possibile un coal Ragazzi ho 50 di ferro santo cielo Vieni 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 a portare vecchio Ma con il cazzo questo è mio Cosa? Non hai capito che dopo c'è il mattatoio per quelli come te eh Il mattatoio Il mattatoio Il mattatoio Il mattatoio di diamanti Ti ammazzo Scava qua perchè comunque Giuseppe ha sbagliato a scavare per conto suo Li ha fatti asimmetrici Asimmetrici oh Diamanti 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 Non ci credo impossibile Esatto no Io Giuseppe non l'ho più rivisto Ragazzi non so dove sto È scappato Oh Anziano Ha fatto tipo fuori sgampa Lì ha continuato ha continuato Anziano col pijama a righe vieni qua Oiii Ma che cazzo Io rompo tutto Non stai andando stascia Finiva qua alla miniera Ah Però se vuoi proseguire prosegui pure Posso? Ok Non trovo più Giuseppe ragazzi Gli dovevo mettere il microchip Ma che cazzo è un cane Una cagna È il cane di Vegas Parca troia dove cazzo sono venuto Ma guardalo Sta facendo i tunnel come piace a lui E mi sta distruggendo tutta la simmetria Sta scavando a livello 10 questo vecchio Ride Non c'è niente da ridere C'è già un casino adesso sta grotta Per colpa della mia stupida idea Stiamo scavando per te Ma scusate lo facciamo pure sul mio canale Basta che sul mio canale dovete scavare tutta la montagna Eh? Diamanti diamanti Non ci credo Diamanti Invece da pagare un pedaggio lo sai No zi ma io sono andato dritto Stai scavando a livello 10 come tuo padre Vedi? Vedi il coglione Ma lo trovi Peccato che li abbia trovati a livello 13 e 12 Non c'entra un cazzo se scavi Come fai a trovarli a livello 13 e sta scavando al 10? Aspetta Stefanino non preoccuparti Perché ha scavato male Ma male Stefano non preoccuparti guarda sto fixando Comunque dai questi qui si aggiungono alla lista quindi 14 più 7 sasci a 21 Sto lasciando in giro una quantità di materiali a terra Stefano sto fixando non preoccuparti guarda Sto strapieno In tutto questo quello che non ho detto Cioè Suri mi ha dato l'idea di premiare chi ne ha di più E oltre a premiare chi ne ha di più Chi ne avrà di meno verrà punito Ah! E adesso Suri è il secondo posto Potrei aver trovato anche diamanti ma non te l'ho detto Bella mossa stupida visto che ti ucciderò per vedere cosa c'è nelle tue ossa Nelle tue ossa Mi son perso non ho capito come devo fare Potrei anche averli nascosti da qualche parte Stefano però aiutami a fixare Sto facendo come pollicino Ciao Suri continua pure Qui adesso per regola divina Dovrebbe uscire Giuseppe Ma perichè non c'è Dove caspita è finito? Se Sascha e Suri sono nello stesso punto Vuol dire hanno seguito per bene le mie regole Io non so dove sono Mes amigos questa prima parte è sterminata Mi raccomando se vedemos alle 18 in punto qua sul canale Non mancate commentate Condividete Se ancora l'avete fatto iscrivetevi Siate puntuali Guardate sempre tutto su bonus Il mio universo parallelo come vedete disordine è maggiore di altri universi Non si sa perché